Dal 4 all'8 maggio qui a Monte Sant'Angelo avremo la quinta edizione del Festival Michael. Il Festival Michael è un progetto-evento che nasce per promuovere le eccellenze del nostro territorio dal punto di vista culturale, naturale, spirituale ed enogastronomico. La città dei due siti UNESCO, Monte Sant'Angelo, che in questa edizione del Festival Michael ha voluto con forza e quindi con tutte le energie ancora lanciarsi a livello internazionale. Per questa edizione abbiamo scelto nella locandina del programma del Festival il San Michele di Kiev che è il simbolo della città di Kiev ed è il protettore dell'Ucraina perché in questa edizione speciale da Monte Sant'Angelo vuole partire un messaggio di pace e di stop alla guerra. È un progetto che ha voluto accogliere qui a Monte Sant'Angelo un artista di fama internazionale e quindi Monte Sant'Angelo e Los Angeles con l'artista Colette Miller che per l'occasione ha ideato queste ali ispirate proprio alla nostra città, a San Michele sul Monte Gargano. Cultura e bellezza sono le nostre armi per costruire un progetto di pace. Grazie.